Carissimi soci, su iniziativa della sezione Sinfer di riabilitazione ambulatoriale e su indicazione dell'Ufficio di Presidenza della nostra società scientifica, insieme al dottor Aldo Barbarino, coordinatore della sezione, abbiamo deciso di intraprendere una survey con un duplice obiettivo. Innanzitutto fotografare le prestazioni riabilitative ambulatoriali effettivamente svolte nel nostro paese, sede, orare, chi fa e che cosa fa e poi creare una mappatura aggiornata dell'attività ambulatoriale stessa. Siamo stati molto contenti perché oltre 300 soci hanno risposto a questa survey da tutte le regioni italiane e al prossimo congresso nazionale di Bari avremo la possibilità di presentare i risultati. In particolare presenteremo risultati in termini di valutazioni riabilitative di terapie ambulatoriali effettivamente svolti con risultati sorprendenti sia in ambito neuromotorio che soprattutto in ambito di terapie fisiche. L'obiettivo ulteriore di questa survey sarà poi di arrivare alla semplificazione e verso l'indirizzamento sul territorio del paziente verso la specifica prestazione. Vi aspettiamo quindi martedì 25 ottobre per condividere insieme i risultati ottenuti. Grazie, ciao!